E' stato rintracciato e arrestato il super latitante Rocco Morabito, un boss dell'Andrangheta, tra dieci criminali più ricercati al mondo. Evaso dal carcere uruguayano nel 2017, dove si trovava in attesa di estradizione, aveva fatto perdere le sue tracce fino a ieri, quando in una operazione congiunta di Interpol, polizia, carabinieri e polizia federale brasiliana, il boss soprannominato Tamunga, nome curioso, forse legato al Munga, l'indistruttibile fuoristrada militare tedesco con cui pare che da giovane scorrazzasse per le strade di Africo. E' finito in manette in un albergo di Joao Pessoa. In Italia era già stato condannato a 30 anni per narcotraffico. Con Morabito è stato arrestato anche Vincenzo Pasquino, latitante originario di Torino, anche lui inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi.